Ci stiamo preparando per andare al mondiale in gioco della voglia. Io sono Gioia Deiunis, sono laborista e quindi mi occupo la progettazione di schede. Tu che sei? Un sacco di tutti. Chi ti sei? Softwareista. Softwareista. Piani? Ladro. Poi? Newness. Galassia. E quale sarebbe il tuo compito a parte di un robot? E' programmare la licenza archivizzante. Assumibilità. Guarda, sono arrivato in audio e io mi sono preso per ardenista. C'erano tutti due ardenisti. Fatti fare una risposta. Ardenista-meccanista. E' ardenista-meccanista. E' ardenista-meccanista-meccanico. Ma se tu fai quello del cambio di boom. Eh sì sì. Ma perché stai andando a primiare? Perché mi aveva vinto la Rop. Mi aveva vinto la Rop. Ok. Ok. Quando partiamo? Sì ma... Forse va. Verso il 24-25 del... Fuori. Ok. Andiamo a Fannacoglia. Che volete Fannacoglia? Sushi o volete vincere? Io non ma... Vorremmo vincere. No. Ok. Fate un saluto ai fan di tutto il mondo. Ciao. 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 Ammazza che mosceria. Ok. Io gli mando. No. No.